Ieri pomeriggi i militari della Capitaneria di Porto hanno eseguito controlli importanti presso il mercato ittico di Chioggia, dove è stato verificato che uno tra i pescherecci montava retti con maglie irregolari. Il pescato è stato quindi posto sotto sequestro, i controlli si sono poi estesi all'interno del mercato ittico, presso la sala aste, dove i militari hanno accertato che si trovavano in vendita molluschi sotto misura, capesante per l'esattezza. La vendita di prodotto ittico sotto misura costa importanti sanzioni ai pescatori e anche punti sulla licenza di pesca, ma quello che è più grave è che la pesca di prodotto troppo giovane depopera la risorsa ittica, diminuendo gli stock. Il trambusto è comunque cheggiato fino al centro storico, dove ieri pomeriggio si parlava di ciò che stava accadendo al mercato ittico. Quando si parla di pescatori guardiani del mare non tutti agiscono allo stesso modo, come in tutti i settori ci sono i professionisti più attenti e quelli che lo sono meno. I pescatori hanno appena terminato il periodo di fermo pesca e qualcuno, forse per far quadrare i conti, ha ben pensato di eludere le normative a discapito dei colleghi che decidono di mantenere la risorsa per i tempi in cui sarà matura. Il futuro della risorsa ittica dipende dai pescatori di oggi, non è da dimenticare. A Fenergia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonina, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di un euro e tretta.